Una petizione con oltre 70.000 sta conducendo una campagna per riconquistare le proprietà della regina. Lince, Bisonte e Lupi potrebbero tornare nei terreni che ora sono la Queens Balmora l'estate, affermano gli attivisti di Wild Card. La tenuta reale di Norfolk a Sandringham potrebbe essere reintrodotta ai castori. Wild Card, un gruppo di campagna per la riforestazione, ha inviato una lettera ufficiale alla regina e al principe Carlo invitando i reali a risistemare le loro terre per dare agli animali un ecosistema diversificato. Mentre la Gran Bretagna si prepara ad ospitare i leader mondiali per la COP26 a Glasgow. La scarsità ecologica del nostro paese rende vane le nostre affermazioni di leadership ambientale globale, minando anche il morale e il benessere dei suoi cittadini, si legge nella lettera ai reali. Prendere un impegno pubblico per ripristinare la biodiversità delle proprietà reali attraverso la risistemazione della natura invierebbe un segnale che è iniziato un nuovo capitolo. Un capitolo in cui la natura è onorata e amata piuttosto che erosa e sfruttata. La petizione è stata creata da un'organizzazione di attivismo senza scopo di lucro. 38 di Gris. Hanno anche condotto un sondaggio che ha scoperto che il 62% delle persone sostiene il rewilding delle proprietà della regina. Il professor James Bullock del Centro Britannico per l'Ecologia e l'Idrologia ha sottolineato l'opportunità di risistemare le proprietà reali. Ha detto a Yahoo UK. Le vaste proprietà terriere di proprietà dei Royals pari o l'1,4% del Regno Unito hanno incredibili opportunità di rewilding. Gran parte di Balmoral, di proprietà della regina, e Dartmoor, di proprietà del Ducato di Cornovaglia, sarebbero naturalmente coperti da una rara foresta pluviale temperata. Punto. Oggi rimangono solo piccoli frammenti. La ricerca mostra che i climi della foresta pluviale oceanica potrebbero essere reintrodotti nel Regno Unito se la natura si riprendesse le grandi proprietà di proprietà dei reali, un punto che è stato sottolineato nella lettera Wild Card. Riportando in natura la Queens Balmoral estate nelle islands scozzesi, il professor Bullock afferma che la tenuta potrebbe vedere l'inci, castori e lupi che aiuterebbe a stimolare il ritorno di ecosistemi ricchi e diversificati.